Giovanni Giangrillo al piano, Lucio Villani al contrabbasso, il 10 gennaio saranno 10 anni che quell'uomo lì se n'è andato, qualcuno se n'è già accorto, qualcun altro se n'accorgerà. Vi ringrazio davvero tutti, ringrazio un po' di ringraziamenti, scusate per l'applauso, prima devo ringraziare un po' di nomi, un po' di belle facce, per esempio Irene Martina dell'ufficio Stampe di quella cosa lì che si chiama Cronie, che in Francia sarebbe stato il festival dell'anno e qui è stato invece un'ottima occasione per incontrarsi. E poi per esempio Matteo che con Amref ci porta tanti buoni propositi e un sacco di belle azioni, un applauso io, fossi in vero farei tanto, invece siamo bagnati. Alfredo Angelici, Silvia della redazione che hanno supportato e supporteranno la prossima settimana la replica di questo concerto bagnato. Io ringrazierò pure il Califo perché ormai sinceramente con funari morto ci è rimasto solo lui, gente veramente di classe in questo paese e non è ironica la cosa, è stato meraviglioso. Grazie, grazie, grazie.